La cronaca delle ostilità si apre dopo tre minuti quando l'angolana perde per infortunio Emanuele De Luca, il match winner dell'andata. Episodio che tuttavia non condiziona la squadra di mister Deustacchio che trova il vantaggio all'undicesimo minuto con il gol realizzato da Pirelli. Dopo una noia mortale durata più di mezz'ora, allo scadere del primo tempo annotiamo questo cross di Farindolini dove nessun giocatore in maglia nero-azzurra riesce ad arpionare il pallone. Nella ripresa dove dopo quattro minuti l'Isernia conquista un calcio di rigore in seguito all'atterramento in area di Mingione. Dagli 11 metri Buonanno manda alto sopra la traversa con Angelozzi che neanche si tuffa. Al ventesimo registriamo questo tentativo aereo di Libalized con la palla che non inquadra lo specchio della porta difesa da Scalia. Siamo con le immagini al ventottesimo quando Santilli in area di rigore sciupa un'altra grossa occasione. Il finale di gara vede protagonista Buonanno, prima con questo sinistro messo in corner da Angelozzi e in seguito con questa mezza girata dove il portiere ospite si fa ritrovare nuovamente pronto. Termina così l'incontro.